Per contrastare l'aumento dei prezzi, oltre al decreto del governo esiste anche il cosiddetto bonus carburante, un buono benzina ceduto a titolo gratuito dalle aziende private e lavoratori dipendenti. Il limite è di 200 euro per lavoratore che per il 2022 non concorre alla formazione del reddito. Trattandosi di benefit aziendale sarà l'azienda a decidere se corrisponderlo o meno. Contrariamente ad altri buoni, quello per il carburante non è riservato solo a chi ha l'ISA inferiore a una certa soglia. In linea teorica possono riceverlo tutti e beneficiare di uno sconto quando vanno al distributore. In linea teorica possono riceverlo tutti e beneficiare di uno sconto quando vanno al distributore.